Nei giorni scorsi la Quinta Commissione Consiliare di Giarre, che si occupa di pianificazione, assetto e difesa del territorio, presieduta da Salvo Zappalà, ha effettuato diversi sopralluoghi per capire come agire su varie aree del territorio. Un primo incontro è stato quello svoltosi nell'Aula Consiliare del Comune di Giarre, fra i componenti della Commissione e il direttore del Museo degli Usi e dei Costumi delle Genti dell'Etna di Macchia, Rosario Sorace. Sorace ha presentato una relazione su quelli che reputa interventi necessari per la struttura. Nello specifico si tratta di capire se l'edificio necessita di interventi strutturali che ne consentiranno la riapertura. I danni principali riguardano infiltrazioni e danni a pareti al soffitto. Giovedì 10 alle 16, nella Sala Consiliare del Municipio a Giarrese, ci sarà un nuovo incontro della Quinta Commissione con il direttore del Museo e l'ingegnere Leonardi, che stabilirà la priorità e il tipo di lavori da attuare. Non si prevedono grosse spese. Uno degli obiettivi precipi è quello di consentire l'apertura in via continuativa del museo ed anche l'apertura della zona di museo finora chiusa ai visitatori, nonché la realizzazione di un'area espositiva. Necessaria diventa l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Altro sopralluogo della Quinta Commissione è stato quello svolto al cimitero, dove la situazione non è apparsa troppo critica. Sono stati riparati i servizi, ma si è rilevata l'assenza di una pulizia costante. Ancora nella zona nuova ci sono degli interventi da rifare. La ditta che si occupa dei lavori è stata informata e si è già impegnata a rieffettuare degli interventi sotto i loculi dell'area nuova, interessati da infiltrazioni d'acqua, prima di completare l'appalto. Il presidente della Quinta Commissione, Salvo Zappalà, ha affermato Cercheremo di far impegnare un piccolo capitolo di spesa per la manutenzione ordinaria del cimitero che abbiamo trovato in buone condizioni. La parte antica, invece, necessita di controllo e ristrutturazione. Fra i prossimi impegni della Quinta Commissione c'è il sopralluogo che si effettuerà mercoledì nel cimitero di San Giovanni Montebello per verificarne lo Stato e capire come risolvere il problema della stretta strada di entrata e uscita. Mentre venerdì prossimo sarà la volta di un sopralluogo congiunto di Quarta e Quinta Commissione nelle scuole di Tre Punti e Carruba che presentano costanti infiltrazioni d'acqua, ha concluso Zappalà.